E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto e su Emiliano e anche oggi torna il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo la notte, andremo a commentare la giornata di ieri ma soprattutto andremo a vedere un indicatore che non si accendeva dal 2012 e che potrebbe dare il via un po' alla giostra, insomma cercheremo di capire se è così o meno ma è come sempre, prima di partire il mio invito è uno, qui lasciano un bel mi piace qua sotto, se questi come tutti vi fa piacere riceverli arriviamo a mille like come sempre e se vi fa piacere iscrivetevi sempre al canale col click sulla campanellina, prima di essere sempre aggiornati è l'unico modo, prima di essere sul pezzo, è un mercato che si evolve alla velocità della luce e se volete supportarmi trovate anche qua sotto tutti i link in descrizione con i principali servizi che utilizzo personalmente e che appunto se utilizzate anche voi ovviamente avete gli sconti molto elevati dovuti proprio al vostro supporto. Detto questo ragazzi abbiamo un sacco di cose da dire quindi partiamo, partiamo dalla prima notizia che è quella un po' più scary, quella un po' più da starci attenti cioè quello che è emerso ieri perché c'è questo indirizzo bitcoin che dovrebbe essere legato alle autorità, al dipartimento di giustizia americano banalmente, il quale detiene un bel po' di bitcoin cioè circa 30.174 BTC che sono circa 2 miliardi di dollari, ok? Spot, quindi non stiamo parlando di futures ma stiamo parlando di spot chiaramente. E ieri c'è stata questa transazione di 0.001 BTC da questo address a Coinbase Prime. Qual è il problema? Il problema sta che molte persone hanno pensato che questa possa essere una transazione di test, ok? prima di vedere se appunto di mandare tutti questi bitcoin per essere liquidati. Allora sappiamo che questi sono bitcoin sequestrati per tutto quello che era il caso Silk Road e chiaramente quando sono stati sequestrati avevano un valore diverso. Potrebbero essere tranquillamente venduti sì, però chiaramente ci sono degli ordini esecutivi, quindi non è che le cose le fanno diciamo a voglia di altre situazioni insomma. Però successivamente a questa notizia c'è stato un aggiornamento, cioè quello che dopo appunto questa ricezione sono stati spediti 2.000 bitcoin a Coinbase e gli altri 29.800 a un altro indirizzo. Quindi diciamo un po' spericolo scampato, nel senso sì, può essere una liquidazione, però come immaginavamo potenzialmente queste liquidazioni non arrivano mai massive perché non conviene a nessuno, non conviene né a chi deve realizzare né al mercato, insomma quindi si cerca magari di dilazionare un po'. In ogni caso 2.000 BTC sono finti su Coinbase e quindi di là poi abbiamo perso le tracce nel senso che non sappiamo se saranno venduti o meno. Fatemi sapere cosa ne pensate, però sicuramente tutti questi organismi americani andranno a rilasciare questi token. Andando invece a vedere quello che è il ciclo che stiamo andando a osservare, bene, in realtà c'è una certa similitudine. Allora voi lo sapete come sempre, chi mi segue appunto sa perfettamente questa cosa che a me non piace troppo fare la storia futura basata su quella precedente perché come potete vedere qui abbiamo tre cicli a disposizione. Uno, due, tre e questo è il quarto che stiamo vivendo adesso qui di farci una statistica e dire che andrà perfettamente così perché dove deve andare così è una cosa fuori di testa. Ma era già una cosa che già dicevamo ancora prima dell'alving, prima di questo incremento di prezzo. C'erano persone che continuavano ad affermare a tutti i costi che non si poteva andare inoltre mai prima dell'alving, che prima dell'alving deve succedere chissà che cosa. Non mi sembra ecco, ma non perché queste persone non abbiano capito Bitcoin, ma perché non si può fare un'analisi su cicli di tre anni, su tre cicli basati su tre, quattro anni. Cioè non hanno rilevanza statistica. Ma detto questo, insomma, il 21, questo ciclo che è partito dal top di aprile 21, sembrerebbe essere molto semile a quello del 2018-2021, proprio come formazione, vedete, proprio come anche incremento di prezzo. È molto molto simile, fitta quasi perfettamente e vediamo se si andrà poi a spiegare in queste forma qua. Ripeto, non credo perché certamente qua è un termine percentuale, se vedete sulla parte di destra, quindi dovrebbe andare a fare degli exploit di più 300-400% sui prezzi di Bitcoin, quindi dovrebbe dire mettere un altro 2-300%. Non lo so, sicuramente è molto complesso, però vedremo se andrà a fittare anche come forma il ciclo di questo genere qua, oppure magari sarà un ciclo diverso e continuerà la sua salita in modo appunto non convenzionale rispetto ai cicli che abbiamo già vissuto. Invece questa metrica che si è accesa dopo, dal 2012, vedete proprio questa zona qua, 12-13, insomma, queste zone qui l'ultima volta, sono le Sharknet Position. Cioè, cosa sono? Sono le entità chiamate squali, che sono quelle che detengono tra i 100 e i 1000 BTC. Ebbene, questo incremento molto forte, lo vedete qui proprio, è dovuto all'incremento di balance di queste entità, che quindi sono andate a comprare. Era una situazione che non vedevamo davvero dai cicli iniziali, cioè proprio quelli del 2012-2013, che poi hanno portato il prezzo dove avete visto dove. Successivamente sì, c'è stato qualche acquisto sicuramente, ma un incremento veramente così forte, come ci riporta Glasnod, di accumulo degli Shark, degli squali, non delle ballene, degli squali, davvero non si vedeva da tanto. E quindi è una metrica molto interessante, non ne parla nessuno, e credo invece sia rilevante, proprio perché sono entità che non sono né enormi, né piccolissime, sono entità sicuramente nella zona istituzionale, ok? Mettiamola così, nella zona istituzionale, quindi tra i 100 e i 1000 BTC. E può andare davvero a crearsi molta, molta anche FOMO probabilmente, ripeto, non sono così né i trendi né i finanziari. Perché dico questa distinzione? Perché nel 2012-2013 100.000 BTC erano un altro target, non era il target di adesso con i prezzi di adesso, quindi per questo vi dico questa è una zona istituzionale, questa è una zona che non era istituzionale, anche se siamo con la stessa tipologia di soggetti, si è passato un po' di mano in mano. Staremo a vedere. Allora, volevo prima di passare ai gamers e ai losers, ricordarvi che ieri è uscito l'episodio di Shillers, trovate qua sotto in descrizione, ve lo lascio, appunto, insieme a Paolo Coletti abbiamo fatto una puntatona di podcast, andatevela a vedere appunto, perché a mio parere è molto interessante e abbiamo sganciato un po' di chicche. Bond vs. Crypto, insomma, vediamo cosa è meglio e cosa no. Ecco, andiamo a vedere invece quelli che sono i gamers delle 24 ore. Troviamo Etena, ne ho listata su Binance più 17, che vince direttamente in posizione 86. Bitget Token, che fa un più 10, molto bene sul settimanale, sempre trainata un pochettino da tutto quello che sono i farm. Se volete, trovate qua sotto in descrizione tutte le promo attive con anche Bitget. Flare un più 9, VCP un più 9, Mantle un più 6, Bome un più 6, WIF un più 5, Bitensor un più 5, insomma, ci sono stati anche dei buoni rimbalzi nella giornata di ieri. Losers ce ne sono comunque da segnalare. Core un meno 13, Aptos un meno 7, Cava un meno 6, Sui un meno 6, Phantom un meno 6, Uniswap un meno 6, insomma, io discorredo. Questo perché, comunque, Bitcoin, sì, è andato giù, è andato giù abbastanza pesante, aveva già fatto ieri, alla fine ha chiuso a un meno 6, ma sta cercando di mantenere questa zona di 64,5 come bottom. E di base, se andiamo a creare un po' di struttura, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, abbiamo fatto, possiamo fare anche così, guardate, ancora più semplice. Faccio ciò, abbiamo fatto un minimo, un massimo più basso del precedente, un minimo, un massimo più basso, poi abbiamo fatto un minimo più alto di questo, ok? E abbiamo fatto uno spike a rialzo, lateralità, abbiamo perso questo massimo e allora stiamo andando a cercare, che cosa? O un lower eye, quindi in questa zona qua per proseguire a ribasso, oppure andremo a fare il nostro V-shape recovery. Questa è un po' la situazione attuale, e cioè, per il momento, ve la sintetizzo, questo minimo è più basso di questo, quindi per il momento stiamo mantenendo la struttura rialzista, ok? Non siamo ancora a ribassista, perché comunque sia, sì, abbiamo fatto un massimo qua e un massimo qua più bassi, però in ogni caso possiamo ancora tranquillamente andare in una sorta di lateralizzazione, di canale di lateralizzazione. E questo è quello che vi consiglio sempre di fare quando vedete questi movimenti, fate un po' di zoom out e vedete che possiamo anche tranquillamente stringerci in una sorta di triangolazione, ok? Che potevo portarci avanti, ripeto, fino all'alving o a fine mese senza alcun problema, per poi magari andare a sfruttare una compressione del prezzo dovuta anche a una notizia, insomma, eccetera, eccetera. Tutte cose di cui abbiamo già parlato, ma sicuramente non mi piace parlarne ora, mi piace più approfondirle man mano, perché se no facciamo veramente sfera di cristallo. In ogni caso tant'è, quindi la cosa migliore per Bitcoin in questo momento è sempre andare a cercare di recuperare il prima possibile i 68, diciamo, queste zone qua, proprio per scongiurare il crocio ribassista 1226. Cosa che avevamo fatto molto bene in questa zona qua, cioè a fine marzo, il 23-24 di marzo. In ogni caso, appunto, ripeto, ha queste zone qua della 26 e della 12 da recuperare proprio per questo motivo qui. Su Metirium anche lui ha sofferto parecchio, ma questo sta succedendo proprio per una questione di dominance che non va a redistribuire particolarmente, ma tende anche un pochettino a salire. Però, ripeto, siamo in una zona di mercato molto strana, anche perché stanno continuando a uscire moltissime coin con capitalizzazioni molto elevate che vanno un pochettino a riassorbire l'oro un po' al momento. Quindi, anche tutte le coin, ragazzi, che avete in portafoglio molto vecchie o di narrative un po' passate o che non possono switchare troppo la narrativa, parlo magari di quelle non di ecosistema, state un po' attenti proprio per questo motivo qua, perché stanno entrando veramente in gioco tante situazioni e vanno ad assorbire parecchie cap. Quindi, o entra tanta fomo, soprattutto retail, oppure diventa un pochettino complesso che vadano a recuperare, o meglio, a seguire quelle che sono poi le performance degli altri asset. Ripeto, non è un consiglio di trading, non è un consiglio finanziario né di alcun tipo, però fateci attenzione perché è molto importante, secondo me, da tenere a mente. Detto questo, ragazzi, mi fermo, fatemi sapere anche voi cosa vi è piaciuto nei commenti, fatemi sapere un po' tutto, vi ricordo i link che trovate sotto in descrizione con tutte le promo, e noi ci seguiamo prestissimo con un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti!